Il Comune di Polla pronto a raccogliere la sfida lanciata dal Dipartimento per le politiche della famiglia è finalizzata ad attuare progetti in grado di accrescere la formazione e l'educazione dei ragazzi ed in special modo dei giovani membri di famiglie che purtroppo vivono in condizioni disagiate, situazione questa che a seguito del diffondersi della pandemia ha subito un deciso peggioramento nei numeri. Nell'ambito delle progettazioni rivolte alle famiglie il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio ha varato un nuovo programma di intervento che mette in campo fondi per 15 milioni di euro per finanziare progetti su tre aree tematiche ossia famiglia come risorsa, relazione e inclusione, cultura, arte e ambiente. L'amministrazione comunale di Polla ha deciso di cogliere l'opportunità avvalendosi però del sostegno di enti operanti nel terzo settore. Da qui la pubblicazione dell'avviso sul sito internet del Comune in cui viene annunciata la volontà di raccogliere idee e proposte progettuali da candidare al programma di carattere nazionale di Educare in Comune. Un'iniziativa che prevalentemente rivolta a sostenere azioni destinate alle famiglie che versano in una situazione di precarietà economica, ben sapendo che troppo spesso alimenta anche un disagio culturale ed una povertà educativa che va a riversarsi in particolare su bambini e adolescenti privati di un diritto sacrosanto, qual è lo studio, ma anche vivendo tale diritto in uno stato di disagio e di inferiorità che va assolutamente evitato. Senza considerare che una povertà economica impedisce ai più giovani di avere accesso anche ad altri beni e servizi che sono considerati primari e diritti intoccabili. Condividendone quindi i principi basilari su cui è nata l'iniziativa nazionale, l'amministrazione comunale pollese guidata dal sindaco Massimo Loviso ha deciso di aderire al programma ma in uno spirito collaborativo con enti e gruppi che operando nel terzo settore conoscono meglio le situazioni di disagio che possono essere presenti tra la comunità pollese ed intorno a tali realtà costruire dei progetti capaci di sostenere una crescita sana dei ragazzi. C'è tempo fino al 1 marzo 2021 per la presentazione delle candidature e dei progetti il cui costo della realizzazione sarà interamente finanziato dal bando della Presidenza del Consiglio purché rientrante nei limiti stabiliti dall'avviso per finanziamenti che vanno da un minimo di 50.000 euro ad un massimo di 350.000 euro. Dal Comune di Polla arriva però la richiesta di presentare progetti e idee entro il 21 gennaio prossimo affinché vi sia il tempo necessario per l'articolazione del progetto secondo il bando.